Ciao a tutti, parliamo della Repubblica Democratica del Congo, che è uno stato molto grande dell'Africa centrale e il secondo più grande dell'Africa dopo l'Algeria, dodicesimo invece nel mondo. Confina con diversi stati, Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan, Repubblica Centroafricana e soprattutto vi segnalo la Repubblica del Congo, che ha un nome molto simile alla Repubblica Democratica del Congo. Però sono due paesi ben diversi. In questo video infatti parleremo della Repubblica Democratica del Congo, con capitale Kinshasa ed ex colonia belga, mentre la Repubblica del Congo, capitale Brazzaville, è stata un'ex colonia francese. La popolazione è di circa 91 milioni di abitanti, terzo posto in Africa dopo la Nigeria e l'Egitto e ci sono diverse etnie, centinaia di etnie, a maggioranza Bantu. Come forma di governo è una Repubblica semi-presidenziale e, come detto, la capitale è Kinshasa, che ha una popolazione di circa 9 milioni di persone, ma, se consideriamo tutto l'agglomerato urbano, arriviamo a 18, quindi una delle città più grandi di tutta l'Africa. La lingua ufficiale è il francese, molto parlato nelle grandi città, ma ci sono tantissime altre lingue locali, come ad esempio lo Swahili. Per quanto riguarda la religione sono in maggioranza cristiani, ma ci sono anche tantissime altre religioni di tipo animista e tribale. Passiamo al territorio e tra i monti più elevati abbiamo le cime del Ruenzori, che superano i 5.000 metri, mentre il fiume più lungo e importante del paese è il fiume Congo, che supera i 4.000 chilometri. Come si vede dalla cartina, questo fiume poi segna anche il confine con la Repubblica del Congo, ha tantissimi altri affluenti, mentre per quanto riguarda i laghi il più grande è quello Tanganyika, che segna il confine con la Tanzania ed altri paesi. Piccola curiosità che il lago Tanganyika è il secondo lago più profondo al mondo, dopo il lago Baikal in Russia. La Repubblica Democratica del Congo poi è anche bagnata dall'oceano Atlantico, però come si vede dalla cartina, soltanto in questo piccolissimo stretto, ed ha addirittura un unico porto, che è il porto di Banana. Il paese poi è attraversato dalla linea dell'Equatore, quindi il clima è caldo-umido, ciò genera abbondantissime piogge e questo, come sapete, dà vita alla foresta pluviale. Qui, infatti, troviamo la seconda foresta pluviale più grande del mondo, dopo l'Amazzonia. Il territorio poi è ricchissimo di biodiversità. Qui troviamo tantissime specie di scimpanze, gorilla, ma anche leoni, elefanti, leopardi, ippopotami, moltissime specie di rettili e uccelli, e poi due animali che sono i più letali del mondo, ovvero due insetti, la mosca zezè e alcuni tipi di zanzare. Questi due insetti, infatti, possono provocare due malattie molto letali, come la malaria e la malattia del sonno, che sono delle infezioni provocate proprio dai parassiti, trasmessi dalle punture di questi insetti. Giusto per curiosità, vedete che ogni anno le zanzare provocano circa 725.000 morti, mosca zezè 10.000, ma guardate gli squali e leoni, solamente 10 e 100. Però adesso niente panico, perché, come si vede dalla cartina, queste malattie sono diffuse soprattutto nell'Africa centrale e nell'Amazzonia, ma se doveste andare in questi paesi bisognerà proteggersi. Passiamo all'economia, e qui è molto, molto importante sapere che il paese è ricchissimo, veramente ricco di risorse naturali, dopo le vediamo meglio. Però allo stesso tempo è anche un paese molto povero, il pilprocapite è inferiore ai 700 dollari l'anno, e quindi questo paese è tra i più poveri al mondo. Adesso vediamo anche il perché. Innanzitutto nel settore primario si pratica l'agricoltura di sussistenza. Ci sono però anche grandi piantagioni, però in mano alle multinazionali. Quindi abbiamo piantagioni di caffè, cotone, gomma naturale, cacao, tabacco e tanto altro. La grandissima potenziale e ricchezza del paese però sta nelle risorse del suolo e del sottosuolo. Abbiamo detto che qui c'è la foresta pluviale, quindi si ricavano legni anche molto pregiati, l'industria della carta. Poi abbiamo moltissime miniere di oro, diamanti, rame, uranio, cobalto, tungsteno, ma soprattutto le terre rare che sono fondamentali per l'industria elettronica. E tra queste abbiamo il famosissimo coltan, di cui vi ho già parlato nel video sull'Africa, quindi riprenderò le stesse informazioni da quel video. Il coltan è la contrazione di due minerali, la colombite e la tantalite, ed è soprattutto la percentuale di tantalite che ne aumenta il valore. Viene estratto soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo. Infatti qui addirittura c'è l'80% dell'estrazione mondiale. Il coltan è importantissimo per quanto riguarda le industrie dell'informatica e dell'alta tecnologia, quindi telecamere, cellulari, smartphone, pc, playstation, batterie per le auto elettriche e molti altri dispositivi. E serve in pratica a ottimizzare la conduzione, ma anche il consumo di energia nei vari chip e anche la durata della batteria. Fino a pochi anni fa il coltan nessuno se lo filava. Pensate che nel 98 valeva circa 2 dollari al chilo, però in pochissimo tempo si è arrivati addirittura a 600 dollari al chilo, e oggi va all'intorno ai 150-200 dollari. I prezzi si sono abbassati perché per l'estrazione è sfruttata la manodopera a bassissimo costo, soprattutto lo sfruttamento dei bambini, perché essendo piccoli riescono poi a infilarsi in queste buche anche molto pericolose. L'estrazione è controllata da gruppi armati, con la complicità di multinazionali straniere. Perché allora nessuno dice niente? Beh, perché piace a tutti comprare un cellulare ultramoderno a poche centinaia di euro, piuttosto che pagarlo 10.000. Per quanto riguarda il turismo, questo è poco sviluppato per tutta una serie di complessi problemi legati anche alla sicurezza, ma ci sono comunque numerosissimi parchi nazionali e aree protette. Per quanto riguarda la storia del paese, questa è lunga e anche molto complessa. Partendo dal XIV secolo avevamo il potente regno del Congo, poi tra l'800 e il 900 tutta l'Africa fu conquistata e colonizzata dalle potenze europee e la Repubblica Democratica del Congo fu colonizzata dal Belgio. Il paese poi otterrà l'indipendenza nel 1960. Cinque anni più tardi inizierà la dittatura di Mobutu, che con un colpo di stato uccise il presidente eletto Lumumba e prenderà il potere appoggiato anche dal Belgio e dagli Stati Uniti. Durante questo periodo poi il paese cambia anche il nome, viene ribattezzato in Zaire e anche la bandiera era diversa. La sua dittatura finirà nel 1997 dopo altre guerre civili e ancora oggi il paese è travagliato da diverse lotte per il potere e per il controllo del territorio, con tante bande armate che cercano appunto di controllare queste miniere e queste ricchezze del paese. Quindi tra i problemi principali del paese abbiamo l'instabilità politica, le guerre, la povertà, lo sfruttamento del lavoro minorile, ma anche l'analfabetismo, l'inquinamento ambientale, soprattutto a causa dell'estrazione mineraria e della deforestazione. E infine problemi riguardanti la sanità, le malattie, abbiamo visto la malaria, la malattia del sonno e di queste regioni è originale anche l'ebola, uno dei virus più letali al mondo. E infine ricordiamo un fatto di cronaca accaduto proprio di recente nel febbraio del 2021 in cui l'ambasciatore italiano Luca Attanasio fu ucciso in circostanze ancora poco chiare.